Ciao a tutti, io sono Elisa True Crime e sta per arrivare la seconda stagione di Verità Nascoste, il format che racconta le verità che si nascondono dietro ad alcuni titoli True Crime su Netflix che prendono spunto da fatti reali, ma anche di tutto quello che è rimasto nell'ombra e che non abbiamo visto sullo schermo. Ci vediamo al primo episodio. Grazie a tutti.